Stanno per concludersi i lavori presso il campo di calcio della Polisportiva di San Pietro a Termoli. L'erbetta sintetica è stata posizionata sull'intero perimetro dell'area e proprio questa mattina si sono ultimati i lavori per la tenuta dell'erba sintetica. I lavori hanno interessato anche la messa in sicurezza del campo sportivo. C'è fermento tra i giovani calciatori iscritti alla Polisportiva che finalmente potranno tornare a giocare sul proprio campo. L'ultimo step è quello relativo all'illuminazione. I pali della luce già montati al lato del campo sportivo potranno permettere ai calciatori gli allenamenti anche nelle ore del tardo pomeriggio e in quelle serali. A breve l'inaugurazione della nuova opera che, lo ricordiamo, in un primo momento era costata circa 250.000 euro che poi sono risultati essere insufficienti. Si è resa quindi necessaria la giunta di altri 170.000 euro.